Perde posizioni Arezzo nella tradizionale classifica d'Italia Oggi in collaborazione con la Sapienza di Roma che misura la qualità della vita. La città rettina scende al 41esimo posto su 110 capoluoghi. Nel 2015 era 38esima, dunque ha perso tre posizioni. Addirittura rispetto a due anni fa le posizioni perse sono sette dal momento che era al 34esimo posto. L'analoga classifica del sole 24 ore che uscirà prossimamente nell'ultima rilevazione l'aveva collocata in 36esima posizione. Gli aretini si possono consolare considerando che Arezzo si trova terza in Toscana alle spalle di Siena e Grosseto guadagnando una posizione rispetto ad un anno fa. Si è riuscito infatti a scalzare Firenze. C'è però da considerare che in termini di punteggio tra il primo posto di Siena e il terzo di Arezzo c'è un grande abisso. Mantua è la città italiana con la maggior qualità della vita seguita da Trento e Belluno. Agli ultimi posti dove si vive peggio troviamo Napoli, Siracusa e Crotone. Nomerosi i parametri che vengono utilizzati per formare la graduatoria, tra di essi troviamo qualità dell'ambiente e criminalità.